Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Dragon Ball Legends Siamo finalmente con le pull dedicate a Goljeta Super Saiyan 4 Ultra Ma prima di iniziare però mi raccomando un bel mi piace a questo video Vi voglio ricordare che questa sera è importantissimo Ci vediamo in live perché pulliamo insieme Vi aspetto tra l'altro scusate per il ritardo ragazzi Ma è una situazione incredibile Insomma anche quando riuscirò a far uscire un altro video Se ci sarà la possibilità insomma Quindi insomma vi chiedo un pochino di pazienza Altra cosina Mi raccomando però mi piace un commento Dai supportate questo video assolutamente qui sotto E proprio riguardo i commenti volevo chiedervi Possibilmente visto che lo so In molti probabilmente finiranno su questo video Anche su quelle Crono Crystals Vi chiedo solo la gentilezza di non rovinare l'intera sezione commenti O quantomeno ad alcuni Come sapete ci tengo che non mi si butti all'aria Tutto quello che faccio nel corso dei mesi e delle settimane E quindi io visto che voglio essere sempre il più trasparente possibile Come già faccio il live vi metto a totale disposizione la mia intera shop history Quindi per farvi vedere quanto shoppo mensilmente o quanto ho shoppato negli ultimi 90 giorni Cioè negli ultimi 3 mesi Insomma vedetevi la shop history e ritroverete praticamente sempre e solo Assist o bot e passi insomma rinnovati Con la step up insomma mensile di inizio mese acquistato ok E giusto qualcosina a livello di pack da 7,99 Qualcosa del genere Per il resto niente di più ok Ci tenevo solo a specificare questa cosa Quindi detto questo Da dove escono quelli 65.000? Da mesi di farming Mesi di pvp costante Tornato al potere sempre in top Quando c'è la possibilità mettere da parte Chrono Crystals e non sperperarle Ho trovato una singola copia di tutti i personaggi praticamente anniversario E non mi sono messo a stellarli A parte Goku vabbè che abbiamo trovato due volte ma è stata una casualità Detto questo signori lanciamoci subito nelle summon Andiamo a vedere Il banner del Gogetone con ovviamente Gogeta Ultra Raga fenomenale poco da dire I Monkey Boys Gogeta IV Green Abbiamo poi Goku IV LF Ed infine Super Vegito Signori Io direi che ci possiamo subito lanciare Non posso urlare probabilmente Cercherò di fare il meno possibile Non mi dite nulla Però voglio assolutamente pullare E voglio capire se riusciamo a trovare questo personaggio Quindi Signori Vamos Andiamo con la prima Quindi Subito Vai Si parte signori Si parte Si parte Ripeto Non posso urlare nel caso Vabbè ma tanto non c'è da niente da urlare ve lo dico Ve lo dico Non c'è niente da urlare Non ci sarà proprio niente Zero Vai Oh comunque c'è una qualità pazzesca oggi Ma che Questo gioco si vede benissimo oggi Incredibile Subito Super Saiyan Vai Vediamo Vediamo Intanto raga fatemi sapere qui sotto Che ne pensate del personaggio Insomma se l'avete Trovato Provato Ecco certo Prima di tutto fatemi sapere se l'avete trovato Se l'avete pullato e tutto il resto E poi Boh se vi siete fatti un'idea E come lo trovate Io credo che ragazzi Sia Sia una roba improponibile Indecente per quanto forte Però Questo solo ce lo dirà Diciamo La possibilità Il poterlo provare In un certo senso Ecco mettiamola così Perfetto Andiamo Sparking Che non ci interessa molto Golden Freezer Che cercavo anni fa Lo ricordate insomma Sì abbiamo subito L'ultra rates per due Proviamo Let's go Annaia la miseria Va bene Va bene Ragazzi sentite i rumori sottofondo Tranquilli eh Trapani Roba del genere Non lo so Non so Non so Non so se mi voglio esaltare o no Perché Ultra rates per due C'è lo blu Broly Animation No Se ce l'avessi data E non avesse craccato Non sarebbe stata La roba incredibile Ecco Se avesse craccato Ragazzi Ci mancherebbe Ma se provassi A fare una roba Tipo Perfetto Era meglio Che non la facevo Era meglio Che me stavo fermo Terza Vai Let's go Ma una spada Un po' partì eh Una spadata Così Anche un bardaccone Ok Ok Vegeta Super Saiyan Già con Spispod però Vediamo un attimo Vediamo 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 Da capire Questa Ok Ok Bene E' la scam Quella Scammante E' la giaco Spispod Scammante LF LF Con un quarto Eh Ci può stare Mi serviva Una copia Di lui Per portarlo A 14 stelle Vi dico Va bene Va bene Cioè Mo Non deve uscire più Però Mo zero Una copia Mi andava bene Perché me lo ricordavo Che ce l'avevo Praticamente A pochissimo Dalle 14 stelle Che ha Veramente una bella Z ability Però mo basta Mo per favore Basta Ti scongiuro Sat fermo lì Free Insomma Ok Infartino Freezerone infartato Ok Dai dai Che se riusciamo a sculare Quest'ultima parte Pure dell'anniversario Ragazzi Siamo fatto un anniversario Top Eh ve lo dico Cioè per quelli Che sono ovviamente Le mie richieste Come devo dire Non ambisco Non ho mai ambito A stellaggi Roba del genere Sembra accontentato Ok E' un go Vabbè Primo giro Primo giro Bello che è andato Quindi Le prime 3k Sono partite Che sono pochissime E va bene Signori Si va al secondo giro Subito Immediatamente Vai Ok Niente Rimane base Rimane base Freezer infartato Vabbè Non vuol dire niente Ovviamente Ci mancherebbe C'è la sparking garantita Quindi Vediamo Te sa mai eh Magari un bel fake out Sapete quale animazione Vorrei vedere Vediamo se la riusciamo a chiamare Vabbè Dubito L'animazione che vorrei vedere Che non vedo Ma non mi ricordo Forse da Broly Pensate un po' E la extreme Quella lì Che si spegne Se non vado Errato E E Del fake out Praticamente Bellissimo E' proprio bella Raga Cioè tipo C'era St'animazione Extreme Che si spegneva Se non vado Errato Come si spegnesse Lo schermo E usciva la ultra Tanta roba Quella Ultra riz per 2 Vai Let's go Mamma mia St'ultra riz per 2 Comunque ragazzi Indecenti L'indecenza St'ultra riz per 2 Nova Sharon Beh la saga E' quella giusta Il problema E' la rarità Il personaggio Ultra riz per 2 Però Un po' più di ciccia Vogliamo Comunque ragazzi Incredibile Ancora non hanno rivisto Il banner format Sta roba E' clamorosa E Diciamo che sta multi Sta ben tarata Sull'episodio Non più Non più Stava Stava bene Nel senso Piazzata bene Questa multi Però Vabbè 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 Ok Vai Vai Veggia da blu Anche se Veggia da blu Comunque in teoria Mi sa che Se Goku e Super Saiyan Non dovrebbe Minimamente garantire Ultra Roba del genere Dovrebbe essere LF Tipo Roba simile Vediamo Altra scam Diciamo che E' giusto Le multi Stanno andando Nella direzione giusta Nella direzione GT Nella direzione Quella che vogliamo Però Insomma Un po' così Anche questo Secondo giro Un po' così Un po' così Insomma Ha vinto Voleva vincere E ha vinto Alla fine Voleva vincere Ed ha vinto Poco da dire Vai Rildo Vediamo Comunque c'è qualcosina Qua dentro Sì Eccolo qua Perfetto Ranksteen Era lui Ci siamo giocati Ci siamo giocati Già l'animazione Vabbè Quando non perde Goku blu Vuol dire niente Mi sa che mi faccio Solo il terzo giro A sto punto E E poi vabbè A parte che ci avrei Da bullare pure con Joseph Quindi Insomma Vai Altra mille Andiamo quindi A 7k Non le contiamo Troppo Qui regà Che Ok Pozzozzona Questa Sicuramente Fa così Eh ma Non sto carico E quello è il punto Non sto carico Ragazzi Paradossalmente Non sto carico Perché non posso fare Un po' Surla E Non posso fare Un cavolo Sono proprio limitato E quindi Meglio così forse Meglio così Meglio così Vediamo Vai 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 Dai per due Dai per due Sàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà Vamo, vamo, vamo! E mo ne voglio un'altra E mo ne voglio un'altra qua dentro Grandi Va bene Va bene Raga top anniversario Top anniversario Top 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 anniversario E comunque stasera ci ribecchiamo eh Stasera ci ribecchiamo boys Vai 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 Grande coggetone Ve l'avevo detto ragazzi Non potevo urla Ve l'avevo detto Ma ti ho fatto reaction muta Vai L'importante era trovarlo Va bene così Va bene così L'importante era trovarlo Era portarcelo a casa E l'abbiamo fatto Vai Grande ultra rates per due Grande bardock animation Free E chiudiamo Ragazzi vi inizio a ricordare Ancora una volta Questa sera è live Mi raccomando Non mancate Aspetta perché Cazzo non ha fatto Broly Cos'è? Questa è la Che Chissà Questa è la Ah ok Ok eh vabbè Vabbè raga ma va benissimo No va benissimo va benissimo Va bene va bene Va bene così Un po' ci avevo creduto Sono adesso un po' ci avevo creduto Tra l'altro non capivo manco che voleva quell'animazione Era la Weezer alla fine Raga io vi do appuntamento a questa sera Non mancate perché si continuano a pullare E oltretutto certo vi devo fare anche il video con Joseph the Gamer Quindi ci siamo ragazzoli Aspetto stasera in live